Saluto tutti, buongiorno a tutti, io sono Claudia Lardi e sono la responsabile della linea B del progetto FAS Piccoli Comuni verso la transizione amministrativa. Vi ringrazio della vostra partecipazione, oggi affrontiamo un tema molto interessante e soprattutto sentito e voluto da diverse amministrazioni con le quali stiamo lavorando sui piani di lavoro. Il tema di oggi è la conferenza dei servizi asincrona, la comunicazione di motivi ostativi ed in particolare l'istituto del silenzio assenso. Io presento il docente, il dottor Riccardo Casalva, che saluto e ringrazio per la sua partecipazione. Quindi vi auguro un buon webinar e ci vediamo poi a chiusura o attraverso le mie colleghe. Grazie, buon lavoro. Ciao Riccardo. Grazie Claudia. Buongiorno a tutti. Oggi, come diceva la dottoressa Elardi, parliamo del focus in particolare sulla conferenza dei servizi asincrona, quindi quella senza riunione, detta anche semplificata. Quella invece tradizionale, diciamo alla quale eravamo abituati, quella contestuale, che oggi è assolutamente residuale, la tratteremo nel webinar di inizio aprile. Allora, entriamo subito in argomento, se possiamo andare... Allora, sapete che c'è un prima e un dopo nella normativa generale della conferenza dei servizi. Questa linea di demarcazione è il decreto legislativo 127 del 2016, quindi uno dei decreti, uno dei più importanti decreti, diciamo attuativi della cosiddetta riforma Madia del 2015, quindi coevo al decreto legislativo 127, c'è stato poi quell'altro sulla scia, sempre del 2016, quindi dove c'è stato appunto il 126 e poi, come sapete, l'anno si è chiuso di forte impatto sulla gestione dei procedimenti amministrativi con il decreto legislativo sempre del 2016, numero 222, sempre attuativo della riforma Madia, quello che poi ha introdotto le tabelle, quelle che descrivono i regimi abilitativi delle varie attività economiche, ambientali ed edilizie. Ma noi oggi ci soffermeremo in particolare sulle innovazioni apportate a livello generale dal decreto 127, appunto del luglio del 2016, che ha completamente innovato, modificato la normativa, perché non ha, come dire, integrato il testo degli articoli da 14 a 14 qui in questo, della 241, li ha completamente sostituiti, quindi sono nuovi articoli del tutto diversi da come erano prima. Poi, vedremo nella seconda parte del webinar, nella seconda parte di questo incontro, ci sono state poi delle innovazioni, a partire soprattutto dal 2020-2021, legate all'esigenza di digitalizzare ulteriormente il procedimento amministrativo, e quindi, a partire dal decreto legge 76 del 2020, tutta una serie di innovazioni che hanno portato la cosiddetta conferenza, hanno introdotto la conferenza cosiddetta accelerata, che è un tipo particolare, sempre di conferenza semplificata, ma la vedremo tra un attimo. Allora, intanto, cerchiamo di capire cosa cambia con questo decreto legislativo 127. Allora, abbiamo detto, gli articoli da 14 a 14 qui in questo sono integralmente sostituiti, perché le innovazioni sono naturalmente talmente di ampia portata che non era possibile fare diversamente. Soprattutto, la cosa più importante, chiaramente chi di voi trattava questo argomento già prima del 2016 sa bene di cosa parliamo, prima la conferenza dei servizi era fondamentalmente facoltativa, poteva essere chiesta dal privato, poteva essere indetta, convocata dal responsabile del procedimento, soprattutto quando le cose andavano storte, quando il procedimento si incagliava, quando non arrivavano i pareri nei tempi previsti e quant'altro. Quindi era un rimedio patologico a una situazione di sofferenza del procedimento. Oggi invece, come dire, l'approccio cambia completamente. La conferenza dei servizi, che sia semplificata e quindi asincrona o contestuale e sincrona, è una conferenza obbligatoria. Obbligatoria quando occorre acquisire almeno due pareri o altri atti d'assenso da parte delle diverse amministrazioni. Ora, chiariamo una cosa. Anche sul discorso della pluralità di enti c'è stata molta discussione, ancora oggi non si è arrivati a un punto fermo, nel senso che, ad esempio, c'è stata una circolare del MIBACT, del 2016, che diceva che loro intervenivano obbligatoriamente in conferenza quando, oltre a loro, c'erano almeno altri due atti di assenso. Così come alcuni enti interpretano la pluralità di amministrazioni, includendo se stessi. Quindi io sono l'amministrazione procedente, devo acquisire un altro parere oltre al mio e quindi lo acquisisco. Altri invece danno un'interpretazione più restrittiva, quindi oltre al mio servono altri due pareri, altri due atti di assenso affinché diventi obbligatoria la convocazione della conferenza. Ad ogni modo, comunque sia, la conferenza dei servizi, quando sussiste questa pluralità di enti, deve essere indetta dal responsabile del procedimento. Dico indetta e non convocata, perché la convocazione, come la conosciamo oggi come istituto, che prevede appunto la riunione contestuale intorno a un tavolo, o anche soltanto telematica, è un qualcosa che, dicevo, è diventata assolutamente residuale. La regola è la conferenza dei servizi asincrona, quindi è un istituto procedimentale che per molti versi ricorda un procedimento autorizzatorio classico. Quindi io mando la nota di indizione con la modalità che vedremo dopo. Gli enti invitati devono rendermi nella tempistica che subito vedremo i loro pareri, i loro atti di assenso, o eventualmente gli atti di motivato di assenso. Quindi questo è l'approccio che c'è oggi. Naturalmente stiamo parlando della conferenza decisoria, quindi non dobbiamo fare confusione con altri tipi di conferenze che sono previsti anche a livello generale dall'articolo 14 della 241. Sapete bene che esiste una conferenza, che quella si è rimasta ancora facoltativa, che è la conferenza dei servizi istruttoria, quella è prevista nel primo comma dell'articolo 14 della 241, che è una conferenza che può essere indetta dall'amministrazione procedente, può essere indetta anche su richiesta di un'altra amministrazione interessata, quando per motivi di opportunità, quindi quando risulti opportuno esaminare contestualmente una pluralità di interessi pubblici coinvolti in un procedimento. In questo caso la conferenza, dice il comma 1 dell'articolo 14, si svolge con le stesse modalità della conferenza dei servizi asincrona, a meno che non vi siano diverse disposizioni da parte dei responsabili del procedimento. Quindi questa è la conferenza istruttoria, quindi non parliamo ancora di un'autorizzazione o di un rigetto, ma parliamo di un esame preventivo, contestuale, di più interessi pubblici dedotti nel procedimento. Poi abbiamo naturalmente la conferenza preliminare, quella prevista dal comma 3 dell'articolo 14, che invece riguarda soprattutto, torniamo nella slide precedente per piacere, che riguarda progetti di particolare complessità, soprattutto insediamenti produttivi di beni e servizi e quant'altro. In questo caso, su richiesta dell'interessato, quindi questa sì è una conferenza alla preliminare che si svolge su richiesta dell'interessato, l'interessato presenta uno studio di fattibilità, quindi un semplice studio di fattibilità, e può chiedere appunto l'indizione di una conferenza preliminare. La conferenza preliminare, come dice il nome, naturalmente non è una conferenza decisoria, quindi non serve a dare un atto di assenso a 360 gradi sul progetto, ma serve a chiarire quali sono le condizioni affinché l'interessato possa ottenere, poi una volta attivata la conferenza decisoria, i suoi atti di assenso, parere, entese, concerti, eccetera, eccetera. Quindi è una forma di, come dire, di amministrazione pubblica che lavora in maniera collaborativa col privato. Quindi prima ancora che mi presenti la domanda, io ti dico qual è il quadro, soprattutto il quadro di vincoli, parliamo di progetti di una certa complessità, naturalmente non il progetto per aprire con tutto il rispetto una salumeria, ma parliamo di opifici industriali e quant'altro, può essere anche un progetto di grande strutture di vendita, un impianto di distribuzione carburante, eccetera. Quindi ti presento il quadro dei vincoli, le specifiche progettuali, affinché il progetto possa avere un assenso, poi una volta presentato il progetto per e proprio. Quindi questo è importante, così come è importante chiarire che la conferenza preliminare, è vero che non è impegnativa dal punto di vista dell'autorizzazione, io se mi esprimo favorevolmente non sto rilasciando un'autorizzazione all'interessato, però non posso neanche disattendere quel mio assenso preventivo in maniera immotivata quando poi si attiverà la conferenza decisoria, quindi il mio assenso preventivo in sede di preliminare mi impegna a mantenere quell'approccio, se il progetto naturalmente viene presentato conformemente a come si è chiusa la conferenza preliminare, e non posso immotivatamente modificare il mio parere, sempre per un principio di leale collaborazione pubblico-privato, non è più soltanto un criterio giurisprudenziale o dottrinale, ma è qualcosa che si trova nell'articolo 1 della 241, quindi è un canone interpretativo di ogni disposizione che trovate nella legge 241. Ad ogni modo, tornando alla conferenza decisoria, che oggi invece è quella che ci occupa particolarmente, troviamo poi un'accelerazione dei termini procedimentali, quindi le altre novità del greto 127, e la semplificazione del meccanismo decisorio attraverso alcuni istituti che sono stati inseriti nell'articolo 14 bis, che vedremo subito. Soprattutto c'è un principio di proporzionalità, quindi la conferenza si convoca soltanto o nei casi più complessi, oppure quando non si riesce a chiudere la conferenza semplificata, questo lo vedremo commentando l'articolo 14 bis, quindi quando si crea una situazione per cui c'è una sorta di andirivieni tra un ente e l'altro, non si riesce a capire se il parere è favorevole o il contrario, allora a quel punto si convoca la conferenza ai servizi, che ripeto è contestuale, che quindi ripeto è una modalità residuale rispetto alla regola che è la conferenza asincrona di cui parliamo oggi. Quindi abbiamo già detto, quindi in questa nuova slide abbiamo questi due modelli di conferenza decisoria, la semplificata e la simultanea, di cui abbiamo già detto, ma il modello ordinario, come dicevamo, è quello della conferenza semplificata, quindi niente più riunioni, a meno che non ci siano, come dire, problematiche particolari, ma solo l'invio dei documenti per via telematica. E in particolare questa tempistica che leggete in questa slide riguarda la conferenza classica, quella introdotta dal Dereo 227, ma noi tra poco vedremo la deroga che è stata appena, come dire, prorogata come periodo massimo dal 30 giugno al 31 dicembre di quest'anno, quindi fino al 31 dicembre di quest'anno, i termini che leggerete adesso sono ulteriormente diminuiti. Comunque andiamo in ordine. Quindi la modalità classica di gestione della conferenza semplificata, quindi al di là di questo istituto che è in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno, riguarda, è quello che leggete nella slide, quindi si decide al massimo in 45 giorni, 45 giorni che diventano 90 se sono coinvolti gli enti preposti alla tutela di rango costituzionale. Quali sono gli enti preposti alla tutela di rango costituzionale? Sono quelli classici, che conoscete tutti, quindi le amministrazioni che sono preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali, tutela della salute dei cittadini, eccetera, eccetera. Quindi parliamo di ARPA, di ASL, di sovrintendenza, eccetera. Quindi in questi enti hanno un termine che è superiore che è quello di 90 giorni. Allora, da quando decorre questo termine? decorre da quando il responsabile del procedimento ha inviato ed è stato ricevuto naturalmente il progetto corredato di tutti i documenti previssimi. Questo lo vedremo in una successiva slide. Quello che invece voglio subito farvi notare è che con questa modalità introdotta nel 2016 anche gli enti sensibili che fino ad allora avevano una sorta di potere di veto, di blocco della conferenza, oggi devono esprimersi con le modalità che vedremo subito in conferenza. Quindi la tutela che hanno questi enti è semplicemente come dire, il raddoppio dei termini rispetto agli enti diciamo così non portatori di interessi sensibili. Quindi hanno 90 giorni invece di 45 ma finisce qui. Anche per loro vige il silenzio assenso anche per loro vigono i requisiti di come dire di donità di un eventuale parere negativo. Il parere negativo non basta dire no ma deve essere oltre che motivato deve avere determinati requisiti previsti sempre dall'articolo 14 bis che vedremo subito. Quindi l'ente sensibile l'ente di rango costituzionale non può bloccare la conferenza questo naturalmente poi è onere dei responsabili del procedimento applicare in maniera scrupolosa e come dire anche non timida questo questo principio molto importante. L'altro criterio che vi dicevo la conferenza simultanea si terrà soltanto nei casi quando è strettamente necessario nei casi che poi vedremo tra qualche slide. Allora come si svolge la conferenza semplificata intanto quello che è importante dire è che la conferenza quindi fin dal 2016 quindi ancora prima di questa nuova tornata di digitalizzazioni che sono sosseguenti all'emergenza pandemica era già previsto quindi quattro anni prima che la conferenza si dematerializzasse completamente quindi non esistono invii a mezzo fax che oggi non è neanche più uno strumento legale di comunicazione tra pubbliche amministrazioni non esiste l'invio per cartaceo e quant'altro ma deve essere fatto con modalità con modalità informatica quindi o abbiamo delle piattaforme telematiche quali possono essere quali sono quelle di diversi su app o anche la piattaforma di imprese in un giorno che credo supporti questa funzionalità oppure laddove non c'è la piattaforma la piattaforma telematica o la firma digitale posso inviare in allegato un messaggio di posta elettronica certificata o anche ordinaria ordinaria naturalmente non può essere la mia gmail ma deve essere una ordinaria istituzionale quindi chiocciolacomune.pincopallo.it chiaro non può essere una casella privata ordinaria nel senso di comunque istituzionale quindi posso inviare l'istanza protocollata e la documentazione oppure naturalmente la PEC la PEC naturalmente non ci nascondiamo che ha un duplice vantaggio che oltre a dare certezza contezza dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario con la famosa ricevuta di avvenuta consegna è anche solitamente più capiente quindi se dobbiamo allegare qualcosa di un po' più pesante la PEC ci consente un margine più ampio è anche vero però è sempre più invalsa la modalità che trovate in coda a questa slide e cioè in basso la possibilità per gli enti di inviare soltanto le credenziali di accesso a una piattaforma telematica che oggi cosa che diciamo con gli ambienti cloud è la prassi nel senso che io comunico agli enti terzi semplicemente la user id e la password o anche soltanto la password per entrare in una pagina che ho creato io inserendo questi documenti loro si troveranno tutta una serie di file che naturalmente non sono modificabili e quindi se li vanno a scaricare là il vantaggio è evidente di questa di quest'ultima soluzione rispetto al classico invio attraverso allegati di posta elettronica che è quella di poter gestire anche allegati di grandi dimensioni quindi tutto ciò che può essere ospitato in un sito web in una pagina web può essere può formare l'allegato può essere considerato una sorta di allegato alla nota di indizione quindi è importante quando abbiamo allegati di 30 40 50 e passa megabyte inserirli in un ambiente dedicato e poi consentire ai nostri colleghi degli altri enti o anche degli altri uffici della nostra amministrazione di andarseli a scaricare in questi ambienti cloud andiamo avanti allora qual è la tempistica per lo svolgimento della conferenza della conferenza semplificata allora intanto la conferenza vi deve essere indetta entro cinque giorni lavorativi bontalloro insomma sono termini hanno fatto i salvi i festivi i sabati e le domeniche quindi entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda quindi da quando io ricevo la pratica scattano i cinque giorni lavorativi attenzione da questo punto di vista che cosa si intende per ricevimento della domanda perché molti mi dicono no ma io l'ufficio protocollo mi trasmette la pratica dopo due tre quattro giorni allora ricordo che con il nuovo articolo 18 bis della legge 241 anche questo frutto della riforma Madia il procedimento a estanza di parte si intende sempre presentato nel momento in cui l'interessato trasmette al comune la pratica che lo faccia tramite un applicativo che lo faccia tramite posta elettronica certificata eccetera nel momento in cui nel momento in cui trasmetto la pratica quello è il giorno quello è il giorno in cui si avvia il procedimento quindi tutte le lungaggini interne tutte le lungaggini interne all'interno del dell'ente ricadono naturalmente sui responsabili del procedimento anche la data di protocollazione che specifica l'articolo 18 bis deve avvenire il giorno stesso o comunque nel più breve tempo possibile non è a rigore un elemento di rimente nel senso che anche se io ho protocollo il giorno dopo dopo addirittura due giorni comunque sia il procedimento si intende avviato nel momento in cui il privato ha presentato la pratica ora capite bene che in tutta la tempistica della ancorché stringente e poi vedrete che quella accelerata è ancora più stringente della conferenza dei servizi semplificata di tutta la tempistica questa è la fase più critica la fase più difficile da rispettare per chi gestisce un procedimento in conferenza dei servizi proprio il rispetto di questi cinque giorni lavorativi perché tu nei cinque giorni lavorativi devi fare una disamina non solo cioè sicuramente formale ma non banale della documentazione quindi non devi non devi esprimerti sulla meritevolezza sentibilità del progetto ma devi verificare che ci siano tutti gli allegati o comunque che sembrino esserci tutti gli allegati previsti dalla normativa di riferimento e in molti casi data anche la situazione di carenza di personale carichi di lavoro e arretrati e quant'altro naturalmente non è semplicissimo rispettarli ad ogni modo questo è quello che dice la legge e questo vi dico poi ricordo sempre ricordo sempre che comunque ci sono degli escamotage e cioè comunque è possibile è possibile per gli enti invitati presentare richieste di integrazione entro 15 giorni poi lo vedremo subito e quindi comunque anche se non abbiamo la matematica certezza che ci sia tutto naturalmente posso sempre contare su una richiesta integrativa che mi verrà dall'ente invitato in conferenza ad ogni modo vengono eliminati quindi i tempi morti di attesa quindi perché prima nella normativa nella 241 vigente o meglio vigente prima della riforma del 2016 era previsto che dopo 30 giorni i responsabili del procedimento non ricevuti pareri e cioè teoricamente quasi sempre perché ben raramente riceviamo pareri in tempi inferiori ai 30 giorni dovevamo indire la conferenza quindi come vi dicevo era una era un rimedio di carattere quasi patologico nel senso che quando c'era un incaglio un problema nella gestione del procedimento come come extrema razio come dicevo e convocavo la conferenza ora invece nel momento in cui sussiste questa come vi dicevo duplicità di enti che devono esprimere i pareri io in quel caso la indico subito quindi mi risparmio quei 30 giorni a cui ero costretto prima e infine come leggete in fondo alla slide l'altra tempistica è che una volta ricevuti i pareri nei 5 giorni sempre lavorativi successivi devo effettuare una determinazione motivata di conclusione che può essere positiva o naturalmente eventualmente negativa la determinazione di conclusione positiva sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati come sapete e questa è la logica del procedimento unico quindi che è tipica anche del SUAP del SUA e di altri procedimenti unici quindi l'atto di assenso che scaturisce dalla conferenza tiene luogo di tutti gli atti di assenso richiesti dalla normativa per quel progetto per quell'opera per quell'intervento allora l'altra ipotesi quindi il caso più facile tutti i pareri favorevoli determinazione finale conclusiva ma naturalmente non è sempre così rosea la situazione come ben sapete quindi può esservi il caso in cui io debba essere costretto a emanare una determinazione sempre motivata anzi in questo caso ha maggior ragione motivata di conclusione negativa della conferenza e in questo caso quando lo farò questo? sempre nei cinque giorni lavorativi quando ho acquisito atti di dissenso quindi atti di dissenso che l'amministrazione precedente non ritiene superabili perché perché sono basati su una radicale sono motivati da una radicale contrarietà del progetto rispetto a norme imperative pubbliche e quant'altro per cui naturalmente non non è possibile non è proprio possibile non è superare questi questi pareri negativi in questo caso però attenzione la norma ci dice che nei procedimenti a istanza di parte come è naturalmente questo è il caso della conferenza dei servizi perché c'è un progetto presentato da un privato quindi siamo in un procedimento a istanza di parte questa determinazione negativa non produce gli effetti della comunicazione di motivi ostativi cioè non produce io chiedo scusa gli effetti di un rigetto finale ma solo quello della comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10 bis della 241 perché questo e perché invece nell'altra conferenza che vedremo dopo Pasqua nella conferenza contestuale non perché lì invece la determinazione finale ha effetto non ha effetto di motivi di comunicazione di motivi ostativi ma è una classica un classico provvedimento negativo perché bisogna fare salvo sempre opportunamente il principio del giusto procedimento che vuol dire il principio del giusto procedimento vuol dire che io devo sempre consentire al privato almeno una volta di entrare nel procedimento e quindi di fornire un apporto collaborativo quindi devo sempre ascoltarlo sentire e acquisire il suo parere cosa ne pensa attraverso direttamente il titolare o i suoi intermediari consulenti delegati quindi questo è il principio del giusto procedimento prima di poter dire definitivamente no devo sapere cosa ne pensa e sapete che l'articolo 10 bis che è stato introdotto nel 2005 opportunamente che vedremo alla fine di queste slide è uno strumento proprio di deflazione del procedimento amministrativo del contenzioso amministrativo serve cioè a evitare un ricorso al TAR che magari si potrebbe evitare attraverso un opportuno dialogo tra l'interessato e la pubblica amministrazione quindi poiché qua siamo in un modulo di conferenza semplificata dove io ho semplicemente acquisito dei pareri ma non ho ascoltato il privato in questo come invece posso fare nell'altro caso nel caso della conferenza classica della conferenza contestuale ecco che in questo caso il mio provvedimento avrà valenza di comunicazione di motivi ostativi ok poi qua parliamo naturalmente questo è il primo caso di pareri negativi come dire tombali ma come sapete c'è sempre un'ampia zona grigia dove io acquisito un atto di assenso che però se lo vado a leggere bene contiene dieci pagine sto esagerando ma contiene una pagina due pagine tre pagine di prescrizione che a volte leggendole sembrano quasi voler stravolgere il contenuto progettuale quindi prescrizioni molto molto impattanti quindi modifiche sostanziali oppure acquisisco un dissenso che non è però come dire radicale tombale come il primo caso ma è un dissenso in qualche modo relativo collaborativo quindi ti dico no ma ti dico anche quali sono le condizioni di modifica progettuale rispettate le quali potrei rivedere il mio dissenso e trasformarlo in assenso quindi in questo caso diciamo si parla di parere negativo costruttivo che tra l'altro è uno dei requisiti previsti sempre dall'articolo 14 bis come requisito di legittimità del parere negativo che cosa faccio in questi casi quando torniamo un attimo indietro per favore quando acquisisco atti di di questo tipo quindi atti di assenso con forti prescrizioni o atti di dissenso costruttivi a quel punto io devo convocare la conferenza contestuale quindi questo è uno dei casi in cui convoca la conferenza contestuale i cui lavori si concludono entro 45 giorni dalla data di prima riunione badate questa è la la normativa e la tempistica classica di conferenza introdotta dal decreto 127 2016 poi dopo tra un po' vedremo invece il vedremo cosa prevede il decreto il decreto 76 2020 in particolare l'articolo 13 per quanto riguarda la conferenza accelerata comunque questo è l'approccio classico della conferenza semplificata allora quindi qui abbiamo ecco qua il comma 3 dell'articolo 14 bis che vi ho voluto evidenziare proprio perché questo è un comma molto importante e dice quali sono quali sono i requisiti di un parere di un parere negativo perché una volta noi siamo abituati al classico al classico parere negativo dove diciamo no oppure o no del tutto del tutto apodittico cioè non motivato non per mancanza dei requisiti previsti dalla legge sì ma quale legge quindi sempre nel principio secondo il criterio di leale collaborazione tra pubblico e privato naturalmente io devo non posso limitarmi a dire no ma innanzitutto devo rispettare i termini i termini sono questi qua naturalmente che abbiamo visto prima quindi se si tratta di un se si tratta di un ente non preposto alla tutela di interessi sensibili lo devo esprimere entro 45 giorni altrimenti sono 90 giorni e guardate che da questo punto di vista spesso la giurisprudenza amministrativa dà ragione ai ricorsi dei privati che si vedono come dire appioppare un provvedimento negativo di conclusione della conferenza perché il responsabile del procedimento per una sorta di come dire di buon tono istituzionale di galateo di timidezza definita la voi ha aspettato ben oltre ben oltre questi termini invece noi siamo tenuti a considerare questi termini perentori ecco perché ecco perché quello che vi suggerisco nella nota di indizione bisogna bisogna esprimere molto molto a chiare lettere e questi termini sono assolutamente perentori e decadenziali quindi 45 e 90 giorni che poi oggi sono ancora più brevi fino al 31 dicembre di via la 24 sono termini assolutamente perentori deve essere congramente motivato vi ricordo che la motivazione è un criterio un requisito di legittimità dell'atto amministrativo quindi questo lo prevede l'articolo 3 della 241 quindi devo motivarlo deve essere formulato questa è questa è bella perché deve essere formulato in termini di assenso o dissenso dice il comma 3 e voi direte ma certo è chiaro perché parliamo di assenso o di dissenso invece no perché molto spesso sicuramente mi sarà capitato tante volte a me infinite volte tutte le volte che ho gestito conferenze di servizi mi è capitato di leggere pareri che letteralmente non capisci dove vogliono andare a parare quei pareri che cosa sono un atto di assenso un atto di dissenso motivato costruttivo tombale non si sa quindi sono quelle formule un po' bizantine dietro cui ci si nasconde invece il comma 3 del 14 bis è molto chiaro devi dire se è sì o è no e devi indicare questo è l'altro requisito che vi dicevo il parere costruttivo devi indicare se è possibile naturalmente se non è possibile amen ma se è possibile devi indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso quindi ti dico perché no ma ti dico anche quali sono le condizioni rispettate le quali io posso in futuro in futuro non vuol dire tra cent'anni ma in futuro vuol dire in sede di riapertura della conferenza quindi dopo che il privato abbia risposto all'articolo 10 bis posso rivedere il mio parere il mio parere negativo e soprattutto questa è un'altra cosa che viene sempre un altro aspetto negletto diciamo così nella prassi della pubblica amministrazione devo indicare il parere negativo le prescrizioni dice questo le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico e specificano se si tratta di un vincolo che deriva da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico perché voi sapete bene che ci sono delle ci sono pareri e pareri istruttori e istruttori dove il margine di discrezionalità amministrativa è più o meno ridotto in molti casi faccio l'esempio dei pareri delle sovrintendenze c'è un aspetto fortemente discrezionale altri casi in cui magari io ti do un parere negativo perché non ci sono le distanze da un luogo indicato come sensibile e quant'altro quindi ci sono degli aspetti allora in quel caso il parere negativo sarà fondato sul fatto del mancato rispetto dell'articolo x, y della legge TOT ma in altri casi devo specificare che si tratta di un parere discrezionale quale può essere anche un parere legato alla sicurezza del lavoro sapete il dereto 81 del 2008 per esempio faccio un esempio prevede dei sufficienti nei casi di interrati dei locali interrati o parzialmente interrati devono esserci dei sufficienti rapporti adeguati rapporti di aeroilluminazione e quant'altro è chiaro che entriamo in un range di discrezionalità amministrativa per cui là nel parere negativo lo devi dire che si tratta di un parere negativo e che è stato apposto per la migliore tutela dell'interesse pubblico a seguito di una valutazione discrezionale e motivata questi sono tutti requisiti di legittimità del parere negativo se non si rispettano questi requisiti poi vedremo subito quali sono le conseguenze questo è un quadro sinottico che naturalmente non ho creato io ma che fu fatto poche settimane dopo dall'entrata in vigore del decreto 127 del 2016 e che prevede che prevede appunto l'iter di svolgimento della conferenza semplificata quindi si inizia il procedimento con una presentazione della domanda entro i successivi cinque giorni deve essere indetta la conferenza dei servizi da parte dell'amministrazione precedente dopodiché mi arrivano i pareri che devono essere resi come dicevamo prima entro 45 giorni grazie oppure in alternativa come dicevamo nei 15 giorni è possibile ricevere richieste di integrazione documentali da parte delle amministrazioni coinvolte perciò vi dicevo non sempre anche se non abbiamo la matematica certezza che l'interessato abbia presentato tutto ma proprio tutto tutta la documentazione a supporto comunque possiamo se abbiamo una certa un certo margine di tranquillità sulla adevotezza della documentazione la possiamo cominciare a trasmettere entro il quinto giorno lavorativo perché comunque nei 15 giorni successivi che questa volta non sono lavorativi sono 15 giorni solari e consecutivi le pubbliche amministrazioni coinvolte possono farci richieste di integrazione e nei 45 a 90 giorni le altre amministrazioni trasmettono il parere che deve rispettare questi deve rispettare questi deve rispettare i requisiti che abbiamo visto prima del comma 3 e nei successivi 5 giorni questa volta di nuovo lavorativi viene adottato il provvedimento motivato di conclusione positiva o negativa della conferenza e come dicevamo come vedete qui nell'ultimo in questa vedete qui in questa questo tondino negativo deve essere naturalmente non ci deve essere mai appena di assoluta illegittimità la clausola verso il presente procedimento del provvedimento è possibile presentare il ricorso al TAR entro 60 giorni o al Consiglio di Stato dentro 120 giorni già mai questa abbiamo detto in prima battuta vale come comunicazione di motivi ostativi quindi entro 10 giorni la signoria vostra può presentare osservazioni contro le deduzioni eventualmente corredate da documenti a supporto della a supporto delle proprie tesi quello che è importante che vi volevo dire invece quello che dovete scrivere bene nell'atto di indizione è prevedere che successivamente nei successivi 10 giorni si terrà la riunione simultanea nella data che dobbiamo però già indicare nella nota di indizione quindi fate bene capire a tutti i vostri destinatari che o vi mandano il parere nei 45-90 giorni oppure voi sarete costretti come dire il vostro malgrado ob torto collo sarete costretti a scomodarli a riunirli in una conferenza simultanea oggi per la verità è prevista secondo la nuova procedura ancora una volta una procedura telematica però sappiate che la norma a regime quindi al di fuori di questa fase che possiamo considerare post-emergenziale è una è una è una conferenza in presenza quindi si dice per evitare il fastidio ma anche telematicamente può essere un fastidio per evitare il fastidio di dover dedicare due o tre ore di una mattinata a fare una videoconferenza una call per dare un parere che avevi già pronto mandamelo nei 45-90 giorni e buonanotte quindi questo questo diciamo così è un quadro sinottico molto efficace fatto dal dipartimento della funzione pubblica per illustrare in grandi linee il funzionamento della conferenza andiamo avanti passiamo alla slide successiva ok allora no questa è quella precedente ok allora vi dicevo che è stata introdotta già con il decreto semplificazione del 2020 il decreto 76 poi c'è stato quello del 2021 il 77 ma questo è il primo decreto semplificazioni pochi mesi dopo lo scoppio della pandemia che ha previsto tutta una serie di semplificazioni amministrative per quello che a noi occorre per la nostra i fini della trattazione di oggi l'articolo 13 ha previsto ha previsto che cosa una una tempistica accelerata e soprattutto una modalità interamente digitalizzata ovviamente eravamo nel nel luglio settembre del 2020 quindi in piena emergenza pandemica ma queste misure che insomma hanno hanno dato i buoni frutti sono state prorogate via via fino a poche settimane fa la scadenza era 30 giugno 2024 poi con l'ultimo decreto legge proprio di pochi giorni fa del decreto legge 2 marzo 2024 numero 19 l'articolo 12 ha esteso questo termine fino al 31 dicembre quindi si parla di conferenza semplificata accelerata allora qual è la grande innovazione che abbiamo avuto in questi anni soprattutto più di recente il testo originario questo testo barrato non è un refuso e vi volevo far capire come era la norma all'inizio e come adesso prima si diceva con il vecchio il vecchio articolo 13 il testo vigente o meglio il testo storico dell'articolo 13 diceva è in facoltà delle amministrazioni precedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata con le seguenti modifiche oggi invece no le amministrazioni precedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata quindi mentre prima era la possibilità di potevo scegliere se farlo o meno oggi invece non ho scelta devo necessariamente per tutte le conferenze indette fino al 31 dicembre 2024 mi verrebbe da dire salvo ulteriore prologa dobbiamo seguire le modalità e le tempistiche che adesso subito andiamo a vedere in questa slide e cioè vi ricordate la tempistica della conferenza classica che abbiamo visto poc'anzi 45 giorni per gli enti non portatori di interessi sensibili 90 giorni per gli enti sensibili quindi 45 e 90 la conferenza la conferenza invece del testo storico dell'articolo 13 quindi la prima stesura dell'articolo 13 prevedeva un termine unitario di 30 giorni di 60 giorni tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine è perentorio di 60 giorni oggi questo 60 è diventato 30 con le ultime modifiche quindi abbiamo questa possibilità di acquisire i pareri di tutti gli enti entro una tempistica che è di 30 giorni quindi l'articolo 13 testo nuovo testo del decreto legge 76 2020 fate attenzione fate attenzione perché la modalità di normazione del legislatore del 2020 non è stata quella di introdurre una modifica all'articolo 14 bis della 241 perché? perché non è una norma transitoria è vero che va avanti da 4 anni questa norma transitoria ma è pur sempre non una norma transitoria quindi se volete ragionare su come dobbiamo comportarci oggi nel 2024 e sicuramente almeno fino al 31 dicembre 2024 dovete considerare come tempistica non quella che abbiamo visto finora che è la tempistica standard quella ordinaria ma questa tempistica transitoria ripeto che vale fino al 31 dicembre 2024 altro dimezzamento sì dimezzamento dei termini il responsabile del procedimento quando ottiene pareri favorevoli con prescrizioni sostanziali o pareri negativi non tombali svolge entro non più 30 ma 15 giorni una riunione telematica ai sensi con le modalità di cui è l'articolo 14 ter comma 4 che vuol dire vuol dire lo vedremo la prossima volta con i rappresentanti unici quindi ogni pubblica amministrazione deve partecipare telematicamente con i propri rappresentanti unici in quest'unica riunione telematica che si deve svolgere entro 15 giorni si prende atto delle rispettive posizioni e si procede a redigere la determinazione conclusiva della conferenza verso la quale è qua qua è importante verso la quale può essere proposta opposizione soltanto da chi dalle amministrazioni previste dall'articolo 14 quinques quelle preposte alla tutela degli interessi di rango costituzionale che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato di senso prima della conclusione dei lavori della conferenza quindi come vi accennavo prima perché è importante questo passaggio perché questo lo trovate anche naturalmente nell'articolo 14 bis della 241 perché esprimere un parere negativo con i crismi di cui alcomatrici consente a una pubblica amministrazione portatrice di interessi sensibili di poter fare l'opposizione altrimenti uno dei requisiti per la proponibilità dell'opposizione è proprio questo quindi si va a vedere se ha espresso o meno il parere negativo attraverso i secondi crismi di cui alcomatrici abbiamo visto prima quindi ecco perché è importante è importante questo l'articolo 12 che vi ho commentato prima quindi l'articolo 12 che riguarda la conferenza di servizi accelerata che come vi dicevo è stato prorogato al 31 dicembre 2024 prevede una cosa anche sempre di carattere transitorio ma comunque interessante che dice che le disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto legge 76 2020 quindi tutte le innovazioni introdotte per la conferenza accelerata si applicano se più favorevoli anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi secondo le modalità di quell'articolo 14 bis della 241 previste dal decreto 77 2021 dal decreto legge 13 2023 e in generale per tutte le conferenze previste nell'ambito del PNRR e del PNC allora chiariamo una cosa rimaniamo un attimo su questa slide perché è importante chiarire una cosa la norma dice quindi se ci sono termini più favorevoli è quasi sempre così questa queste innovazioni questa accelerazione dei termini si applica anche alle conferenze previste dal 77 2021 dal decreto legge 13 2023 e in generale da tutte le conferenze previste funzionali all'accelerazione dei termini per l'approvazione dei progetti del PNRR e del Piano Nazionale di Coesione ok però soltanto per quelle che si devono svolgere con le modalità di quell'articolo 14 bis quindi se io ho una conferenza funzionale all'approvazione di un progetto finanziato dal PNRR e dal PNC che comunque per cui è comunque prevista la tenuta della conferenza stessa in modalità sincrona in modalità contestuale classica naturalmente questa semplificazione non si applica ok però nelle slide successive adesso che ci arriviamo vediamo subito quali sono queste conferenze previste soprattutto dal decreto 77 che riguardano appunto le opere finanziate da PNRR o dal piano nazionale di coesione allora molte di queste non riguardano i comuni le ho volute emettere giusto per una completezza di esposizione quindi le conferenze finalizzate a rilascio dell'autorizzazione dell'attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali nelle acque marino costiere in questo caso l'autorità competente o è la regione o il ministero dell'ambiente ma ripeto non si applica oppure il provvedimento unico in materia ambientale la via di competenza statale qua parliamo di provvedimenti articolo 27 del rete legislativo 152 del 2006 questo è il codice dell'ambiente oppure vedete sotto alla slide il famoso famigerato direi POWR come dire un acronimo che mai fu più azzeccato quindi il provvedimento autorizzatore unico regionale che riguarda invece l'articolo 27 normato dall'articolo 27 bis del codice dell'ambiente che riguarda la via di competenza regionale anche però in questo caso non si applica questa semplificazione perché è una conferenza che si tiene sempre in modalità contestuale o sincrone andiamo avanti altre conferenze questa è interessante però anche questa è di competenza regionale non comunale quella prevista dall'articolo 24 bis del decreto legge 77 l'autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche gli interventi edilizi rilevanti sono dice l'articolo 24 bis ristrutturazione nuova costruzione risanamento conservativo eccetera insomma quindi sono tutta una serie di le definizioni le trovate ma sono un'autorizzazione unica che riguarda appunto le strutture turistiche ma l'ufficio precedente è individuato nelle regioni ancora conferenze finalizzate a rilascio del titolo abilitativo per interventi di competenza del ministero del MIT infrastrutture e trasporti finanziate in tutto e in parte con le risorse previste dal PNRR dal piano nazionale di coesione e quant'altro quindi torniamo un attimo indietro c'è un'altra conferenza che non che non vi riguarda conferenza finalizzata a rilascio del titolo abilitativo per interventi infrastrutturali ferroviari anche questi finanziati dal PNRR o dal piano nazionale coesione e quindi sono tutte conferenze che non che non ci riguardano qua abbiamo ancora abbiamo conferenze finalizzate quindi questa è una disamina di tutte le conferenze prese in considerazione dal decreto legge 77 del 2021 che è quello che è un po' istituito la governance del PNRR quindi questo riguarda interventi di nuova costruzione riqualificazione messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti di uso scolastico ed educativo da realizzare sempre nell'ambito del PNRR e in questo caso si dice che qua potrebbe anche essere teoricamente coinvolto il comune come ente precedente perché no se si tratta di edifici scolastici non di competenza provinciale ma in questo caso dice che l'autorizzazione ministeriale quella prevista dall'articolo 21 del codice urbano il codice del paesaggio il decreto 42 2004 che riguarda edilizia scolastica interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR questa autorizzazione ministeriale deve essere presa dall'amministrazione competente entro 60 giorni anche tramite conferenza dei servizi il parere del sovrintendente che naturalmente è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione ministeriale perché parliamo di un vincolo deve essere riso 130 giorni andiamo avanti quindi queste sono tutte semplificazioni quindi con questa con la slide precedente abbiamo esaminato in maniera naturalmente come dire in maniera abbastanza a volo d'uccello diciamo quelle che sono le innovazioni previste per la conferenza accelerata dall'articolo dall'articolo 13 del decreto legge 76 del 2020 naturalmente ci sono altre ci sono altre casistiche che dobbiamo prendere in considerazione cioè quello che prima di parlare di un aspetto particolare di conferenza di servizi che riguarda la Zessunica dobbiamo considerare la fase la fase decisoria e cioè che cosa che cosa vi devo dire che quello che è importante quello che per chiudere il discorso sulla conferenza generalista quello che è importante dire è che il discrimine fatto dal legislatore che riguarda tutti tutti i rilascio dei pareri quindi non soltanto quelli in conferenza semplificata ma anche quelli in conferenza contestuale o anche fuori dalla conferenza un tipico caso è l'articolo 17 bis quindi rilascio dei pareri da una pubblica amministrazione a un'altra pubblica amministrazione fuori però dal caso della conferenza dei servizi che cosa dice non è importante se l'ente sia o meno non è importante se l'ente sia titolare o meno di un interesse sensibile quindi se sia portatore di un interesse di rango costituzionale questo determina soltanto un raddoppio o dei tempi o anzi addirittura nel caso del nel caso della conferenza accelerata questo raddoppio neanche c'è più quello che invece voglio dire perché c'è soltanto un'ipotesi di di parere che deve essere necessariamente rilasciato altrimenti la conferenza proprio non può andare avanti e cioè il caso in cui lo prevede il comma 4 dell'articolo 14 bis in cui vi siano disposizioni del diritto dell'unione europea quindi disposizioni comunitarie direttive o regolamenti che ne prevedono necessariamente l'adozione di un provvedimento espresso senza il quale il procedimento non può concludersi quindi infatti l'articolo 4 il comma 4 chiedo scusa dell'articolo 14 bis dice fatti salvi i casi in cui queste disposizioni comunitarie richiedano l'adozione di provvedimenti espressi la mancata comunicazione del parere nei termini come abbiamo visto oppure il parere negativo privo privo dei requisiti di meritevolezza di quel comma 3 equivalgono ad assenso senza condizioni quindi non solo assenso ma assenso senza condizioni restano firme di responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso ancorché implicito quindi anche per questa cosa come dire questa cosa mi piace sottolinearla anche per vincere a volte un po' no la come dire la timidezza la ritrosia dei responsabili del procedimento che dicono ma come faccio a chiudere la conferenza senza questo parere senza quell'altro il problema è che oggi per come è congegnata la normativa noi come responsabili del procedimento non è che possiamo siamo tenuti dobbiamo chiudere la conferenza in difetto di quei pareri naturalmente dobbiamo verificare bene che tutto sia andato che le comunicazioni siano state fatte correttamente che insomma non ci siano stati problemi che ho trasmesso tutte le tutti i file stavo per dire le carte diciamo tutti i file nei tempi previsti che ho se nei 15 giorni mi hanno fatto una richiesta di integrazione documentale io l'ho fatta sto spendendo i termini e l'ho trasmesso quindi questo tutto tutto questo va benissimo ma una volta rispettate queste condizioni preliminari poi devo essere come dire veramente talebbano devo essere manicheo cioè scatuto i termini devo chiudere la conferenza perché ricordo sempre a me stesso e quindi agli altri che il responsabile del procedimento oggi si trova tra l'incudine e il martello dove scegliete voi qual è l'incudine e qual è il martello ma sicuramente diciamo tra due fuochi uno è quello del privato che ha interesse a chiudere la conferenza nei tempi e l'altro è naturalmente l'amministrazione che ci ha rilasciato un parere magari molto tardivo o privo di qualunque crisma di legittimità che magari si offende perché noi abbiamo chiuso la conferenza in maniera difforme da quelle che erano i suoi desiderate quindi questo è il problema che spesso si pone al al responsabile del procedimento per risolvere il quale ripeto l'ultima parte del comma 4 opportunamente recita restano ferme le responsabilità dell'amministrazione non che quelle dei singoli dipendenti per l'assenso reso ancorché implicito quindi non rispondo io responsabile del procedimento ma risponde per la eventuale violazione di un interesse pubblico importante risponde l'ente che quel parere non mi ha dato questo è un aspetto importante su cui volevo focalizzare l'attenzione dopodiché il comma 5 che cosa che cosa ci dice possiamo lasciare questa slide sulla Z1 che stavo facendo giusto un ricapitolo sulla conferenza sulla conferenza semplificata quindi noi abbiamo detto che cosa succede una volta una volta che ho ricevuto pareri pareri negativi pareri successivi devo fare un provvedimento negativo che però ha valenza di comunicazione di motivi ostativi mi arrivano i motivi mi arrivano le contradduzioni corredate da documenti perché io se do un ovviamente se comunico l'esistenza di motivi ostativi devo dare dieci giorni per entori per dieci giorni per entori per la per la presentazione di queste contradduzioni mi arrivano queste contradduzioni che faccio intanto le mando naturalmente a tutti gli enti invitati in conferenza sebbene sono tanti quindi non soltanto all'ente non soltanto all'ente che aveva espresso o agli enti che avevano espresso parere negativo perché è perché hai visto mai che quelle conclusioni quelle contradduzioni magari rielaborano per venire incontro a quel parere rielaborano il progetto in una modalità tale ahimè che magari possono non andare più bene per l'ente che aveva espresso invece parere favorevole quindi io chiaramente devo una volta acquisite le contradduzioni corredate da documenti le mando a tutti gli enti partecipati alla conferenza dopodiché naturalmente come che cosa succede quindi a questo punto acquisisco di nuovo i pareri quello che però è importante lo vedremo bene commentando l'articolo 10 bis proprio il diretto interessato 10 bis l'importante è che il nuovo parere eventualmente negativo dell'ente che si conferma appunto nel darmi parere negativo deve tener conto delle contradduzioni quindi non basta dire mi riporto a quanto già detto con nota protocollo del quello non è un parere ammissibile devo dire premesso che ho dato parere negativo lette le contradduzioni valutate le stesse non accoglibili per questo 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 e questo e quindi motivatamente confermo il parere negativo che poi non è una conferma è l'espressione di un nuovo parere negativo che ritiene le contradduzioni non accoglibili per motivi che verranno ben esplicitati nel nuovo parere questi sono tutti requisiti che ci consentono di stare tranquilli e di poter in maniera relativamente serena dico sempre relativamente perché la serenità assoluta non c'è mai in questo campo poi è fare una nuova una nuova comunicazione o meglio un nuovo provvedimento negativo questo sì questo sì conterrà la famosa clausola verso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al tar entro 60 giorni o straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla ricezione perché perché questa volta il privato è stato ascoltato quindi sono state valutate le sue osservazioni quindi sono state in qualche modo è stato consacrato è stato valorizzato il principio del giusto procedimento posso serenamente procedere se invece se invece ho dei pareri che letteralmente non mi consentono di capire come fare come non fare eccetera io non sono un tuttologo io sono un ex responsabile di sportello unico quindi so benissimo cosa vuol dire non essere tuttologi io sono ho fatto il gestore di procedimenti amministrativi complessi ma non mi permetto come dire di entrare nel merito di valutazioni che fanno i colleghi dell'ufficio tecnico dell'ufficio della sovrintendenza dei vigili del fuoco dell'asle e quant'altro quindi io prendo atto di certi pareri quando letteralmente non se ne viene a capo perché veramente non si capisce come trovare la quadra tra i pareri favorevoli pareri negativi contrari collaborativi non collaborativi io a quel punto taglio corto e convoco ecco il motivo per cui è importante scrivere bene l'atto di indizione convoco la conferenza in formato contestuale oggi fino al 31 dicembre la convoco ma sempre telematicamente domani quando finirà questa normativa transitoria se finirà sarà una conferenza che potrà essere svolta o telematicamente o anche in presenza oggi deve essere una riunione telematica perché appunto soltanto il legislatore opportunamente ha detto nel 2016 e l'ho ribadito soltanto in questo modo cioè esaminando in mera contestuale sincrona i pareri è possibile sciogliere questo nodo quindi questo è il quadro spero abbastanza esaustivo della conferenza di servizi in forma contestuale però appunto prima di passare agli altri istituti i colleghi delle regioni del nord non me ne vorranno ma mi è sembrato opportuno inserire qualche slide che riguarda la ZES unica perché qui anche qui c'è una importante conferenza di servizi svolta in maniera sempre semplificata che che riguarda appunto otto regioni quindi quelle classiche diciamo così una volta si chiamavano obiettivo 1 tra cui la mia io come avrete sentito all'accento parlo da Napoli quindi sono campano ma ci sono anche le altre regioni del sud quindi nella ZES quindi Puglia Puglia Sicilia Calabria Basilicata queste si aggiungono anche l'Abruzzo e la Sardegna quindi sono otto regioni quindi il 40% diciamo delle regioni italiane che fanno parte di questa zona economica speciale per il mezzogiorno ZES unica che cosa perché ne parlo oggi perché è stata fatta con questo decreto legge 124 appunto del 2023 le altre ZES territoriali sono state soppresse e dal dal primo gennaio ma ai fini nostri diciamo dal primo marzo è entrata in vigore questa nuova questa nuova struttura questa struttura di missione ZES presso la presidenza del consiglio che deve curare con le modalità che vedremo subito l'istruttoria le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica per tutte le pratiche che arrivano da questi territori quindi sarà una struttura di missione ZES particolarmente cospicua immaginiamo e naturalmente non per tutte le pratiche classiche di sportello unico però per una discreta fetta poi vedremo quali quindi tutte le pratiche che dal primo marzo arrivano ai suoi appi comunali che riguardano determinate attività produttive in quei territori in quelle otto regioni devono essere il suo app si deve dichiarare si deve dichiarare incompetente il suo app comunale che cosa succede che presso la struttura di missione operativo dal primo marzo questo portale è un portale web che si chiama si chiama Sud ZES deve garantire l'accesso allo sportello unico digitale infatti con un acronimo non casuale si chiama Sud quindi sportello unico digitale ZES previsto proprio dall'articolo 13 di questo decreto andiamo avanti allora che cosa è questo sportello unico Sud ZES è uno sportello appunto tra l'altro implementato da da Union Camere quindi c'è interoperabilità anche per quei comuni che hanno che hanno imprese in un giorno che nel quale confluiscono confluiscono tutta una serie di pratiche quali quali sono le pratiche classiche su app di cui si occuperà dal primo marzo lo sportello Sud ZES e non più i su app comunali procedimenti amministrativi inerenti all'attività economica e produttiva di beni e servizi ma questo non vuol dire niente mi permetto di dire perché sapete bene che anche l'attività commerciale è un'attività produttiva di servizi quindi fate conto che questo primo capoverso leggetelo con beneficio di inventario perché invece il commercio come vedremo subito è testualmente escluso dalla competenza del Sud ZES e rimane nella competenza dei suoi app comunali sicuramente rientrano nella competenza del Sud ZES tutti i procedimenti amministrativi che riguardano la realizzazione l'ampliamento la cessazione la riattivazione la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi quindi tutto ciò che riguarda l'aspetto come dire fisico edilizio dell'impianto produttivo che è una bella fetta di queste delle attività del SUAP così come rientrano nello sportello unico digitale ZES i procedimenti amministrativi che riguardano l'edilizia produttiva compresi gli interventi di trasformazione del territorio a iniziativa privata e gli interventi su edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione e modifiche di esercizi di attività produttive quindi l'intervento di trasformazione del territorio in iniziativa privata può essere anche una non necessariamente la classica pratica edilizia finalizzata al rilascio del permesso di costruire o una scia o una cila eccetera ma può essere anche un piano urbanistico attuativo quindi proprio uno strumento integrativo qualunque strumento integrativo del piano urbanistico comunale che voglia finalizzato naturalmente alla rifunzionalizzazione e alla costruzione di un edificio produttivo quelle sono tutte competenze del Sud ZES così come riguardano lo sportello Sud ZES i procedimenti che riguardano la realizzazione dell'ampliamento e la ristrutturazione di strutture dedicate a eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo quindi anche tutto ciò che riguarda palazzetti dello sport stadi o eventi culturali di pubblico spettacolo questi sono di competenza del Sud ZES andiamo avanti di cosa invece non si occupa testualmente lo sportello ricordo ai responsabili sua comunque comunali che ci stanno seguendo oggi che fanno parte di queste otto regioni che il 28 febbraio è stata emanata una circolare affirma proprio Caponetto che il coordinatore appunto di questa struttura Sud ZES inviata a tutti i sindaci delle otto regioni che rientrano alle otto regioni che specifica meglio quello che stiamo dicendo adesso quindi lo trovate anche nel portale della ZES Unica questa circolare nel caso in cui non ve l'avessero trasmessa la trovate sul portale di che cosa invece non si occupa quindi lo sportello e quindi si occupano altre strutture gli impianti e le infrastrutture energetiche che poi curiosamente sono le stesse gli stessi impianti le stesse infrastrutture che erano già state escluse fin dal 2010 dall'ambito di competenza dei SUAP perché ricorderete per chi lavora negli sportelli unici nell'articolo 2,4 esclude nell'ambito di competenza gli impianti e le infrastrutture energetiche che evidentemente quindi verranno le cui pratiche verranno istruite dai competenti uffici comunali o degli altri o degli altri enti così come non rientra nella Sud ZES tutto ciò che riguarda la competenza territoriale degli aeroporti gli investimenti di rilevanza strategica come sono definite dall'articolo 32 del decreto legge 115 del 2022 e soprattutto ai fini che più riguarda i SUAP tutte le attività soggette a scia o comunicazione scia ivi compresa la scia unica e la scia condizionata come precisa la circolare del coordinatore della struttura di missione ZES del 28 febbraio quindi la scia la scia unica che è quella prevista dall'articolo 19 bis comma 2 la scia condizionata che invece a pensarci bene è un vero e proprio procedimento autorizzatorio se vogliamo quella prevista dall'articolo 19 bis comma 3 della legge 241 in ogni caso sono tutte così come le comunicazioni tutte le attività soggette a comunicazioni sono tutte ancora di competenza del SUAP ora naturalmente potete aiutarvi in questo torniamo un attimo indietro per favore potete aiutarvi naturalmente con la modulistica con la modulistica che a ogni livello con tutte le regioni hanno posto in essere in questi anni dal 2017 e poi la modulistica unificata che riguarda le attività produttive e poi in generale c'è quella famosa mega tabella allegata al decreto legislativo 222 del 2016 che chiarisce quali sono le attività soggette a scia scia unica scia condizionata e comunicazione e infine tutte le attività commerciali disciplinate dal 114 del 98 e dal decreto legislativo Bersani 114 del 98 quindi tutte le attività di vicinato media grande struttura e commercio naturalmente ambulante commercio tutte le forme di commercio vendita straordinaria e quant'altro sono tutte attività che che fuoriescono dall'ambito di applicazione della Sud Zest che si rientrano in quella del del SUAP anche se vi devo dire la verità la circolare non è che dica molto di più di quello che dice la norma quello che sarà importante invece è uno strumento che ancora non è stato emanato che è il piano strategico della Zessunica che dovrà definire nel dettaglio poi cosa è dentro e cosa è fuori perché immagino che ci sarà comunque un ci sarà un un periodo transitorio non facilissimo andiamo pure avanti per favore allora scusate allora sì che cosa fa questo 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 sportello unico entro tre giorni lavorativi quindi ancora di meno la struttura di missione Zess indice la conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14 bis tutte le amministrazioni rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine di 30 giorni va bene quindi un po' come abbiamo visto però qua è fatta salva la competenza qua è fatta salva il maggior termine di 45 giorni per gli enti preposti invece alla tutela degli interessi sensibili quindi scusate un attimo ok un po' come è previsto per la come è previsto per le come abbiamo visto per l'articolo 13 quindi 30 giorni o 45 in caso di pareri favorevoli in questo caso con prescrizioni sostanziali o pareri negativi non tombali stessa cosa che abbiamo visto prima si svolge nei successivi 30 giorni si svolge la conferenza contestuale con i rappresentanti unici quindi si svolge un'unica riunione telematica con tutti gli enti coinvolti in cui il responsabile del procedimento quindi la struttura ZES prende atto delle posizioni e procede a redigere la determinazione motivata conclusiva che può essere positivo o negativo della conferenza andiamo avanti allora alla fine avremo questa autorizzazione unica prevista dall'articolo 15 anche qua niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto prima a proposito della conferenza semplificata quindi contro la determinazione motivata conclusiva può essere proposta opposizione dalle sole amministrazioni previste dall'articolo 14 qui in questo della 241 quindi quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato di senso prima della conclusione dei lavori della conferenza quindi vedete anche qua deve essere espresso prima quindi non dopo non deve essere tardivo e deve rispettare i requisiti crismi di legittimità che abbiamo visto prima si considera in ogni caso acquisito l'assenza senza condizione delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione oppure abbiano espresso la propria posizione oppure non abbiano espresso la posizione oppure abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza quindi capite da questo approccio quanto è importante l'espressione di un parere negativo che abbia i crismi dell'articolo 14 bis comma 3 andiamo avanti questo è un altro aspetto importante che è particolare proprio dei particolari delle specifiche pratiche che verranno presentate alla Sud Zessu quindi immaginiamo opifici industriali che abbiano un certo che richiedano un livello di progettazione preliminare esecutivo eccetera quindi se si rende necessario riconvocare la conferenza sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione di assenso e pareri comunque denominati sono rilasciati nel termine di 60 giorni della richiesta quindi nel caso in cui occorra poi fare una nuova conferenza sul livello di progettazione successivo i termini sono ridotti alla metà poi l'articolo 15 si spinge avanti sulla come dire sull'efficacia unificante dell'autorizzazione unica perché non soltanto sostituisce ogni altra autorizzazione approvazione e parere comunque denominato e consente di realizzare tutte le opere prestazioni e attività previste nel progetto ma addirittura se necessario costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza indifferibilità dell'intervento che come sapete sono requisiti necessari per poter procedere poi alla alla fase espropriativa quindi è importante questo ora l'espressione costituisce variante non proposta di variante e mi fa capire naturalmente fa capire la portata poi della se sarà confermata questo assetto la portata come dire innovativa rispetto invece a quella che è l'attuale conferenza ai servizi di variante che gestisce lo sportello unico quindi dove invece dalla conferenza esce soltanto una proposta di variante che poi deve essere deve essere assentita nei 30 giorni successivi dal consiglio comunale andiamo avanti con le slide ecco quando se emergono contrasti valutazioni contrastanti tra amministrazioni competenti a diverso titolo che abbiano condotto a un niego di autorizzazione il coordinatore della struttura ZES può comunque chiedere al ministro degli affari europei di deferire la questione al consiglio dei ministri per una complessiva valutazione dopodiché nei 10 giorni successivi si svolge questa riunione una riunione preliminare in cui tutti i partecipanti formulano proposte secondo il principio di leale collaborazione in questo caso non tra pubblico e privato ma tra pubblica e amministrazione per individuare una soluzione condivisa che sostituisca il niego di autorizzazione quindi una forma di come dire di camera di compensazione però a valle della conferenza dei servizi che comunque si è conclusa con una valutazione con una valutazione con un niego di autorizzazione andiamo avanti allora veniamo adesso per concludere brevemente con questi due istituti della conferenza dei servizi e del silenzio assenso come vi dicevo la comunicazione di motivi ostativi è stata introdotta nel 2005 con l'introduzione appunto del nuovo articolo 10 bis che poi è stato di recente di recente modificato allora che cos'è intanto che cosa dice questo articolo 10 bis l'abbiamo detto prima quindi quando ci sono motivi ostativi nei procedimenti a istanza di parte motivi ostativi al rilascio di un'autorizzazione di un provvedimento favorevole questa cosa va comunicata prima del del diniego va comunicata all'interessato affinché questi entro dieci giorni possa presentare eventualmente osservazioni corredate da documenti idonei a idonei a superare quelle quel parere negativo quelle osservazioni quindi come vedete e come enfatizza in due sentenze diverse del 2010 il consiglio di stato si tratta di un si tratta di un di un di un istituto che ha natura endoprocedimentale perché tu non puoi fare ricorso contro una comunicazione di ex articolo 10 bis anzi quello è un supporto che viene dato al privato prima di darti un provvedimento negativo proviamo a interloquire a capire se è possibile fare qualcosa quindi ha una natura endoprocedimentale serve è nato come strumento di deflazione come dicevo prima del contenzioso perché chiaramente potrei evitarmi un ricorso al TAR qualora appunto ascoltando il privato posso ritarare il il parere espresso da un altro da un altro ente quindi la razio come dice la sentenza del consiglio di stato dell'aprile 2010 è quella di interloquire di creare questa interlocuzione col privato prima delle definitive determinazioni sfavorevoli e quindi ha natura endoprocedimentale che vuol dire endoprocedimentale vuol dire che non è mai in sé impugnabile la comunicazione dei motivi stativi può essere fatta soltanto l'impugnazione nei confronti del provvedimento finale andiamo avanti il decreto 76 2020 che abbiamo visto è quello che nel cui articolo 13 introduce la conferenza accelerata la conferenza semplificata accelerata anche ha portato con l'articolo 12 delle rilevanti come dire delle rilevanti innovazioni nel corpo del 10 bis intanto il vecchio testo cosa diceva diceva che la comunicazione di cui al presente articolo interrompe i termini del procedimento oggi invece si dice sospende i termini del procedimento la differenza di locuzione non è banale perché sapete bene che l'interruzione con l'interruzione il contatore diciamo così dei giorni del procedimento tornano a zero mentre la sospensione fa salva tutta la tempistica che si è verificata fino a quel momento quindi si erano passati i 30 giorni in un riparto da zero ma riparto da 30 quindi questo sempre come finalità di accelerazione dei procedimenti inoltre prima cosa diceva cosa diceva la vecchia la vecchia edizione ante 2020 diceva dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale oggi invece questo inciso è stato sostituito da una parte da un altro inciso molto più lungo come vedete nella slide e cioè dobbiamo sempre sì dare ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni del provvedimento finale ma dobbiamo indicare se ve ne sono soltanto i motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni quindi dobbiamo tenere distinta la fase precedente in cui ho dato un parere negativo sulla base del progetto presentato rispetto alla fase successiva in cui ho letto le controdeduzioni e mi devo esprimere su queste ok quindi devo inserire i motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni presentate esenze del 10 bis e in caso di annullamento quindi quando se poi in giudizio davanti al tarro al consiglio di stato viene venga eventualmente annullato un provvedimento nell'esercitare il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttore del provvedimento annullato quindi possiamo anche andare oltre che cosa vuol dire questa che cosa vuol dire questa slide vuol dire intanto che il compito di motivare il mancato accoglimento spetta sempre al responsabile del procedimento o all'autorità competente nel caso di via per esempio si parla di autorità competente quindi è lui che deve motivare il mancato accoglimento è chiaro che lo motiverà facendo riferimento a un parere espresso da un altro ente ma comunque la motivazione deve essere sempre nel provvedimento finale inoltre bisogna indicare nel provvedimento finale i motivi i suoi motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni proprio perché dobbiamo distinguere la prima fase istruttore dalla seconda in cui io devo dare atto del fatto che mi sono concentrato soltanto sulle osservazioni e su queste formulo gli ulteriori motivi ostativi poi inoltre che cosa vuol dire quell'ultimo inciso se il Taro o il Consiglio di Stato annullano il procedimento nel ripresentare la pratica non posso addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti vuol dire che io le cose che ho nel mio arsenale le armi che ho nel mio arsenale le devo esplicitare subito non mi posso tenere di riserva dei motivi ostativi ora te ne dico uno ma io già so che ce ne sono altri poi magari tu mi fai vai al TAR mi annulli il ricorso io te ne faccio un altro ma quell'altro ricorso già quell'altro motivo ostativo già era chiaramente evidente dalla pratica presentata in origine quindi quando ho tre motivi ostativi andiamo avanti con le slide quando ho tre motivi ostativi li devo portare avanti tutti e tre non è che posso tutti e quattro tutti e cinque tutti e due se c'è una pluralità li devo manifestare subito affinché come leggete nella relazione illustrativa al dereto legge al dereto 76 2020 che ha modificato appunto l'articolo 10 bis affinché vi sia un'unica impugnazione giurisdizionale io non devo io privato non devo essere costretto a fare tanti ricorsi al TAR ed eventualmente anche nel Consiglio di Stato quanti sono quanti sono i motivi di diniego ma devo andare al TAR una sola volta per impugnare n motivi di diniego quindi non mi li posso tenere di scorta di riserva dei motivi di diniego e presentarli poi mano a mano va bene questo sempre nell'ambito della secondo la valorizzazione concreta del principio di leale collaborazione pubblico privato passiamo avanti concludiamo la trattazione del silenzio assenso per dire chiedo scusa dei motivi ostativi poi arriveremo subito al silenzio assenso per dire un'altra innovazione importante che è stata fatta dal decreto 76 2020 e cioè è stato modificato anche l'articolo 21 octies del comma 2 della legge 241 e voi direte che cosa c'entra l'articolo 21 octies che parla di tutt'altro rispetto alla comunicazione dei motivi ostativi e in effetti sembrerebbe sembrerebbe così perché il 21 octies riguarda l'annullabilità del provvedimento va bene cosa dice il 21 octies o meglio cosa diceva allora è annullabile il provvedimento amministrativo come sapete che è affetto da uno dei classici vizi che si studiano già gli esami di diritto amministrativo quindi violazione di legge eccesso di potere o incompetenza sono i classici tre vizi che danno luogo all'annullabilità però dice nella vecchia formulazione del comma 2 del 21 octies dice tuttavia il provvedimento annullabile non è più tale se in giudizio responsabile del procedimento l'amministrazione fornisce la prova positiva che nonostante tutto quindi diciamo così è palese che il suo contenuto non non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e comunque non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato quindi cosa dice l'articolo 21 octies dice è vero che il provvedimento è annullabile nei casi classici di patologia dell'atto amministrativo tuttavia se l'amministrazione fornisce in giudizio la prova positiva quindi l'onere della prova aspetta l'amministrazione fornisce la prova positiva che comunque sia anche con l'apporto collaborativo del privato anche rispettando la forma del procedimento anche avendo valorizzato il principio del giusto procedimento quindi facendo entrare il privato nel provvedimento se fornisco questa prova che comunque per la natura proprio fortemente vincolata dell'attività istruttoria il provvedimento mio non avrebbe mai potuto essere diverso da quello che ho fatto allora a questo punto l'amministrazione si salva in giudizio questa cosa dal 2020 non è più del tutto vera perché come leggete nella slide dice al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis sul preavviso di diniego non si applica la norma di cui al 21 octis comma 2 ok quindi questo per dirvi cosa che se non faccio la comunicazione ai sensi dell'articolo 10 o comunque ho violato l'articolo 10 bis della 241 perché non ho considerato le osservazioni non ho motivato e quant'altro il mio provvedimento è sempre annullabile quindi non posso fornire non posso fornire in giudizio quella prova positiva di cui vi parlavo Paganzi che potrebbe servire invece a salvarmi ok quindi anche se si ratta di un'attività fortemente vincolata non ho ascoltato non ho fatto il 10 bis quindi il mio provvedimento è sempre annullabile per concludere la trattazione della giornata andiamo avanti parliamo della disciplina del silenzio assenso anche qui ci sono state alcune alcune modifiche non alcune modifiche non proprio non proprio clamorose ma comunque ci sono state all'articolo 20 allora intanto cominciamo a dire una cosa il silenzio assenso di quell'articolo 20 non è il silenzio assenso previsto dall'articolo 17 bis è un silenzio assenso di tipo cosiddetto endoprocedimentale chiedo scusa provvedimentale o se volete verticale cioè riguarda il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione quello invece il 17 bis riguarda il silenzio assenso nei rapporti tra pubbliche amministrazioni questo invece è il silenzio assenso classico come esiste dal 90 dall'introduzione della legge 241 e ci dice che nei casi in cui equivale ad accoglimento della domanda il silenzio è a valore di provvedimento e quindi l'amministrazione può in via di autotutela annullare o revocare l'atto implicito di assenso ok quindi la disciplina del silenzio assenso oggi che cos'è è un incentivo a provvedere quindi ma chiaramente non è che offre totale certezza al privato su quella che è la valutazione compiuta da parte dell'ente sull'istanza presentata dall'interessato cioè io se davanti a un silenzio assenso posso sicuramente andare avanti però il dubbio me lo pongo ma l'ente se non altro ha visto ha istruito la mia pratica proprio per motivi di distrazione di sciatteria ma anche di carichi di lavoro di arretrati eccetera non ce l'ha fatta in tempo e quindi io praticamente mi trovo in una situazione delicata perché da un lato potrei farlo però dall'altro è vero che può esserci sempre il potere di revoca o di annullamento in autotutela del silenzio implicitamente verificato infatti andiamo avanti infatti l'amministrazione l'amministrazione del o meglio il legislatore del 2016 che cosa ha detto ha detto questo allora intanto il silenzio ha detto che intanto non opera in tutti i casi in cui abbiamo procedimenti finalizzati dalla tutela del patrimonio culturale paesaggistico e dell'ambiente quelli rilasciati dalle amministrazioni prevoste alla difesa nazionale alla pubblica sicurezza all'immigrazione eccetera eccetera in tutti i casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti formali va bene così come non opera in tutti i casi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto dell'istanza quindi ci sono tutta una serie di casi in cui non si applica il silenzio assenza e tra l'altro un elenco quello potete trovare nella famosa tabella A allegata al 222 il decreto scia 2 quello di novembre 2016 andiamo avanti qual è la vera la vera novità con il con il decreto 77 del 2021 quindi l'altro decreto non il 77 2020 ma il 77 2001 è stato introdotto un nuovo comma 2 bis nella insieme all'articolo 20 della 241 e cioè oggi è previsto nel momento in cui si forma il silenzio assenso l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica su richiesta del privato un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda entro i 10 giorni alla richiesta quindi questo è stato fatto lo capite bene nella finalità quello di consentire al privato di avere comunque un titolo quello che una volta chiamavamo il pezzo di carta abbiamo un titolo che comunque serve al privato perché noi parliamo sempre di silenzio assenza sì ma quando poi devi andare che ne so in banca a fare un fido eccetera quando ci rivolgiamo a soggetti privati il soggetto privato nei confronti del quale non esiste la decertificazione per cui chiedo d'ufficio a un altro ente notizia in quel caso io vado in banca un fido mi fai vedere il titolo abilitativo edilizio ma io ho la scia ho capito mi fai vedere che sono dei corsi per dire ho il permesso di costruire che sono il percorso mi permesso di costruire vi ricordo l'articolo 20 del 380 del DPR 380 prevede anche lì la possibilità che si formi il silenzio assenso quindi in tutti i casi in cui mi serve avere un'attestazione io la posso chiedere e l'ente assolutamente la rilascia quindi su richiesta del privato l'ente è tenuto a rilasciare un'attestazione che sono utilmente decorsi i termini previsti dalla normativa dopodiché che cosa succede che decorso ancora questo termine quindi io ho 10 giorni per rilasciare questo termine decorsi 10 giorni e rimango ulteriormente in ente in ERTE questa attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato una dichiarazione sostitutiva di certificazione ok quindi il privato dichiara io ho presentato la pratica sono decorsi termini del silenzio assenso ho presentato istanza affinché l'ente mi rilasciasse questa attestazione nei 10 giorni l'ente non mi ha neanche attestato ho voluto attestare quest'utile decorso del termine per cui io autocertifico che ho un titolo quindi come dice la relazione illustrativa la finalità della norma è quella di consentire la piena operatività e il rafforzamento dell'efficacia del silenzio assenso ok non so se c'è un'ultima slide no infatti abbiamo finito mi sembra più o meno abbastanza in orario quindi adesso leggiamo qualche qualche domanda che mi avete fatto dottor Roccasalba accede lei alla chat o preferisce che le legga io ci sono tre domande io le vedo perfetto le vedo le vedo allora la prima dice buongiorno la determinazione di motivata conclusione positiva può essere effettuata oltre i 5 giorni lavorativi se no cosa fare ma certamente insomma certamente voi dovete sempre ragionare almeno io ragiono sempre in termini molto concreti no cioè nel senso di qual è il male minore allora qua soprattutto se parliamo di conclusione positiva se al privato la determinazione favorevole gliela rilasciamo entro 10 giorni anziché 5 ma fossero anche 15 difficilmente si straccerà le vesti o farà qualche o farà qualche azione legale insomma il problema il problema è un problema più di forma che di sostanza mi verrebbe da dire anche se ricordo che sono comunque termini perentori e c'è sempre la possibilità questa introdotta dal introdotta dal nuovo comma 9 ter non abbiamo parlato oggi per brevità ma ricordo che l'articolo 9 ter dell'articolo 2 della 241 dice decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il responsabile o l'unità organizzativa titolare del potere sostitutivo eserce dal potere sostitutivo quindi teoricamente il nostro superiore potrebbe esercitare il potere sostitutivo ma chiaramente stiamo parlando di come dire di aspetti veramente marginali insomma difficilmente qualcuno potrà impugnare un provvedimento favorevole che gli facciamo nei dieci giorni anziché nei cinque giorni costa di più il processo in termini anche di contributo unificato quant'altro che non aspettare qualche giorno poi è chiaro che se sempre è un discorso concreto invece di qualche giorno facciamo passare qualche settimana il discorso già cambia quindi per qualche giorno non mi porrei chiedo scusa non mi porrei particolari problemi ancora sì io forse prima ho detto male leggo una domanda per cui forse ho capito di essermi espresso male nel caso di conferenza accelerata rimane la bipartizione di termini tra gli enti non titolari gli aspetti sensibili e gli altri quindi il termine di 30 e 45 giorni rimane quindi assolutamente sì forse me ne scuso sono stato sono stato io poco preciso quindi come nel caso del procedimento Sud ZES così anche nel caso della conferenza accelerata i termini oggi sono fino al 31 dicembre 30 giorni per i pareri degli enti non titolari di interessi di rango costituzionale e 45 per gli altri ricordo sempre che qua sì dobbiamo essere sempre molto dobbiamo essere molto rigidi quindi evitare di acquisire pareri tardivi anche perché ricordo che appunto c'è c'è una norma che che ricordo sempre che il nuovo il nuovo comma 8 bis dico nuovo ma insomma è stato introdotto nel 2020 sempre dal 76 dal 76 il nuovo comma 8 bis dell'articolo 2 che dice le determinazioni relative ai provvedimenti alle autorizzazioni ai pareri e nulla osse agli atti d'assenso comunque denominati adottate dopo la scadenza dei termini di cui anche agli articoli 14 bis comma 2 eccetera quindi nel caso che ci occupa ovvero nel caso di conferenza contestuale successivamente all'ultima riunione nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti in caso di scia adottati dopo la scadenza dei termini sono inefficaci ok quindi noi dobbiamo sempre ricordarci che un parere tardivo negativo soprattutto è un parere inefficace quindi da questo punto di vista ricordiamoci di essere molto molto rigidi invece per quanto riguarda l'aspetto dei termini io infatti vi dico la verità quando mi capita di gestire qualche conferenza nell'immediata come dire scadenza dei termini faccio un recall anche soltanto via mail dicendo ricordatevi che i termini stanno per scadere perché poi quando scadono insomma è sempre delicato assumere un parere negativo rilasciato oltre i termini allora si è parlato sempre di pareri nei titoli abilitativi edilizzi richiesti nell'istanza unica l'ufficio tecnico esprime un parere oppure rilascia il titolo abilitativo secondo la normativa vigente esempio permesso di costruire stessa cosa per il procedimento paesaggistico allora grazie della domanda perché questo è un aspetto importante no nella conferenza dei servizi tutto un po' come nel procedimento unico del SUAP per fare un esempio ma in generale in tutti i procedimenti unici così va anche in conferenza dei servizi tutti quelli che nella legge di settore sono autorizzazioni finali autorizzazioni al privato qui sono pareri va bene quindi sono sono pareri perché perché sono pareri perché non hanno non hanno un'efficacia non hanno un'efficacia provvedimentale diretta l'unico provvedimento che viene rilasciato nell'ambito di una conferenza dei servizi è la determinazione finale di conclusione del del procedimento questa poi è una cosa che è chiara nella nella è chiara nella conferenza dei servizi semplificata perché il privato chiaramente accontezza dei pareri negativi soltanto quando riceve la prima determinazione negativa quella che vale comunicazione quella che vale i sensi dell'articolo 10 bis come comunicazione dei motivi ostativi ma soprattutto nel caso della conferenza contestuale che vedremo inizio aprile molti fanno ancora l'errore di considerare come titolo eventualmente impugnabile il verbale finale il verbale finale non è assolutamente un titolo che è efficace esterna quello che è efficace esterna nel bene e nel male quindi in senso sia positivo che negativo anche ai fini di un'eventuale impugnazione dell'interessato o di eventuali controinteressati è la determinazione conclusiva conforme alle risultanze del verbale finale quindi è sempre comunque la determinazione che è quella che è il provvedimento stessa cosa vale per il procedimento paesaggistico quindi anche lì l'autorizzazione paesaggistica rilasciata eventualmente esensi dell'articolo 146 del codice del codice urbano del codice del paesaggio anche quella degrada nell'ambito del procedimento degrada a parere e vi dirò di più tornando a quello che dicevamo prima questo è il classico caso in cui si tratta chiaramente di un interesse di rango costituzionale ci mancherebbe altro il paesaggio se si tratta di autorizzazione paesaggistica quindi i termini sono aumentati quindi nella disciplina standard 90 invece di 45 nella disciplina accelerata 45 invece di 30 ma comunque si applica anche all'autorizzazione paesaggistica il silenzio assenso dove non si applica il silenzio assenso ve lo dico chiaramente sono pochi casi residuali dove ci sono dei regolamenti o direttive europee che prevedono l'esigenza di una autorizzazione tipico esempio classico è quello dell'autorizzazione all'emissione dell'emissione di fumi in atmosfera quella prevista dall'articolo 269 del codice dell'ambiente perché lì c'è una direttiva comunitaria che la prevede oppure il riconoscimento di stabilimenti alimentari quindi non la notifica ma lo stabilimento lì c'è un regolamento del 2004 che prevede che per alcuni stabilimenti non sia sufficiente la notifica ma occorra il riconoscimento il riconoscimento è un atto autorizzativo che deriva direttamente dal regolamento quindi anche lì sono sicuramente sono situazioni che bloccano la conferenza dei servizi ma in tutti gli altri casi vi compresa l'autorizzazione paesaggistica il procedimento assolutamente non si blocca allora nel caso di eventuale ricorso contro il provvedimento finale nel caso di eventuale ricorso contro il provvedimento finale del SUAP SUE che valore hanno i pareri espressi dagli enti coinvolti allora questa anche la ringrazio ancora una volta per la domanda perché questo è un altro aspetto che quando parliamo di procedimento unico quindi più che conferenza ai servizi appunto pareri SUAP SUE questa è un'altra cosa che io che io cito per tranquillizzare i responsabili del procedimento e cioè io diciamo così facciamo il caso che sono un responsabile SUAP va bene quindi rilascio un provvedimento che hai visto mai negativo perché incorpora un parere negativo che ho ritenuto di non poter bypassare quindi è un provvedimento un provvedimento finale negativo ora questo riguarda sia la conferenza che un procedimento autorizzatore classico quindi il principio è lo stesso qual è il nodo è che io non posso mai rispondere come responsabile SUAP SUE non posso mai rispondere della legittimità non lo devo e non lo voglio fare della legittimità dei pareri che mi arrivano quindi se il mio provvedimento unico finale sarà impugnabile ci mancherebbe altro ma io se lei si permette io faccio la ricorsa altare ci mancherebbe altro cioè siamo siamo qui per questo nei nostri provvedimenti si scrive sempre avverso il presente provvedimento è possibile ricorso altare dopodiché chiaramente il ricorso sarà fatto nella parte in cui sarà fatto dall'avvocato amministrativista che conosce il suo mestiere sarà fatto nella parte in cui quel parere quel provvedimento finale è viziato perché è viziato perché appunto incorpora in quota parte un parere negativo quindi è chiaro che visto che lei ha citato il provvedimento unico le ricordo che il DPR 160 lo dice a chiare lettere il responsabile del SUAP non può mai essere chiamato in responsabilità per per ciò che è scritto nel provvedimento unico l'unica responsabilità del responsabile SUAP è la responsabilità procedimentale quindi io sono responsabile se ho violato i termini o se addirittura come spesso come a volte purtroppo accade ho dimenticato proprio di avviare un filone endoprocedimentale quindi non ho considerato che per quell'attività occorreva anche il parere dell'ente X o dell'ufficio comunale Y in quel caso ahimè sì quella è una mia responsabilità come responsabile del procedimento ma altrimenti se mi arriva un parere negativo che io posso anche ritenere come dire sulla base della mia esperienza sulla base delle mie conoscenze anche sommarie infondato ma io ne prendo atto io ne prendo atto lo incorporo nel mio parere eccetera eccetera poi è chiaro che se sono in conferenza di servizi ho degli strumenti la conferenza perciò è importante perché ho degli strumenti per poterlo bypassare quindi potrò fare una comunicazione di motivi ostativi potrò eventualmente invitare appunto il potrò quindi considerarlo un parere eventualmente un parere con prescrizioni quindi potrò tenerne conto nell'ambito di un nell'ambito di un parere ma senz'altro mai io posso essere chiamato a rispondere del contenuto di un parere che mi sono limitato a incorporare nel mio nel mio atto ecco questo questo mi sembra corretto dire non vedo altre domande quindi se se non c'è altro io vi ringrazio non so ditemi voi microfono spento è al microfono spento credo quindi non non sento ecco non riuscivo ad attivare l'audio scusatemi chiedo scusa non ci sono domande quindi stiamo perfettamente nei tempi credo che possiamo includere qui i lavori della giornata e interrompiamo la registrazione ringraziamo il